che vedi giocare Vieri, migliora, incredibile, ha avuto una crescita e tutte le volte riesce a migliorare in effetti se ricordi all'inizio di carriera qualcuno era perplesso, pensava che fosse un giocatore piuttosto macchinoso invece ha avuto dei miglioramenti incredibili testa bassa, però aveva di bello che quando tirava prendeva sempre la porta attenzione, prova Fuser e di gol, gran gol di Diego Fuser al decimo del primo tempo Fuser sblocca la situazione dalla sua posizione preferita per la verità Schmeichel avrebbe dovuto coprire proprio quell'angolo sono perfettamente d'accordo con te Schmeichel secondo me ha una grossa fretta di responsabilità su questo gol, d'altronde se ricordi il gol del Bayern in Coppa dei Campioni il raso terra sul suo palo, evidentemente si aspetta sempre il pallonetto, la palla sopra la barriera ecco che rivediamo, in effetti se il portiere piazza la barriera a coprire un palo deve andare a coprire lui l'altro, se poi il giocatore è così bravo da fare gol sul primo palo, bravo, bravo il giocatore ma un gol così non lo deve vedere a favore di Kolding parte il lancio in profondità, il colpo di testa è stato di Dino Baggio ora va Di Francesco su Di Francesco c'è la copertura di Alan Nielsen poi Pancaro che scaraventa in mezzo, un pallone ribattuto da Hugg c'è però ancora Fusar, tenta l'1-2, palla in profondità Michael perde il pallone, porta vuota, gol gol da parte di Vieri, ancora prontissimo errore anche stavolta di Michael direi di sì, un'altra dimostrazione di quell'attaccante di razza che è Vieri che hai visto non casca mai per terra, è sempre lì pronto se un avversario sbaglia, se c'è un rimpallo, se la palla vaga lui è lì pronto, non fa come quelli che sono sempre per terra per avere chissà cosa è un premio che si merita grazie a Schmeichel che purtroppo ha sbagliato secondo me un'altra volta ma Vieri era lì, per cui si merita anche questo gol gran momento per Vieri 2-0, festa al San Paolo partita gradevole, come ripetiamo, grazie anche all'interpretazione che non ha data ecco che ne vediamo, il colpo di tacco di Vieri l'uscita di Schmeichel che non trattiene Vieri che non si ferma e va a mettere dentro a porta vuota ha seguito l'azione, ha seguito l'azione e se lo merita non è un caso che facciano sempre i goli soliti è perché c'è l'ano del sangue e fanno i movimenti giusti Enrico, soddisfazione sul punto grande euforia, Rocca addirittura è arrivato in campo concesso con grande magnanimità mi pare di poter dire dall'arbitro vediamo se... ecco che rivediamo oddio salta un po' sulla schiena dell'avversario Cannavaro sì ma un fallo beniale io credo che sullo 0-0 non l'avrebbe dato Jorgensen contro Buffon Amuso duro, fa rispettare le distanze l'arbitro Jorgensen secco, intuisce Buffon non intercetta di mezzo alle distanze la Danimarca per merito di Jorgensen peccato, avevamo appena fatto il 2-0 che ci poteva permettere di giocare con una certa tranquillità abbiamo subito preso il gol su questo rigore che secondo me senza essere faziosi definirei dubbio vedremo poi anche con l'ausilio della Moviola a fine partita vi ricordo ci sarà un... però Bruno vedi che se l'Italia prova ad attaccare è più pericolosa che non loro quando hanno il pallino intanto Alan Nielsen anticipato tocco all'indietro di Cannavaro quindi la possibilità per Jorgensen parte il suo traversone da quest'altra parte tenuto ancora in gioco e c'è il pareggio ha fatto un miracolo era una palla molto lunga questo giocatore qua all'estrima destra pareggio da parte del nuovo entrato Vleggorst tutto questo all'undicesimo del secondo tempo Sanda ha tenuto una palla in campo che era destinata ad andare fuori sembrava impossibile ci è arrivata ed ha fatto un perfetto assist in aria che è stato un miracolo balistico per il compagno in centro dell'aria è stato molto facile segnare e adesso rivediamo ecco Vleggorst è lui che imposta l'azione tocca a Jorgensen Jorgensen effettua un lunghissimo traversone da quest'altra parte è bravissimo Sanda a tenere il pallone in campo e lo stesso Vleggorst a due passi mette dentro sì la parte finale è stato un gioco da ragazzo in fase offensiva sì sì perché quando noi li impegniamo in fase difensiva non sono così efficaci Pancaro Golbeck palla verso Sanz fate filtrare Cannavaro ma attenzione c'è ancora pericolo in sinistro la deviazione il gol gol di Thomasson e adesso diventa dura diciannovesimo del secondo tempo Danimarca incredibilmente in vantaggio con Thomasson il cui tiro è stato deviato sì si è aperta una falla in difesa ogni tanto è successo in questa partita i danesi che sono sull'aile entusiasmo in questo momento ne hanno approfittato vediamo di che stoffa è fatta la nostra squadra vedete Cannavaro che anticipa l'avversario ma c'è ancora Thomasson Thomasson il suo tiro la deviazione di Panucci che mette fuori causa Buffon 3 a 2 per la Danimarca forse come atteggiamento fino adesso se lo sono sono anche meritati però come è andata la partita c'è un ramarico da parte nostra per adesso perché sicuramente il rigore ha rimasto